ecco quel che ci raccontò il vecchio marchese d'harville al termine del pranzo di sant'uberto in casa del barone di ravelle durante la giornata avevamo ridotto agli estreme un cervo il marchese era il solo fra i commensali che non avesse partecipato alla cacciata perché non lo faceva mai per tutta la durata della lunga cena non avevamo fatto altro che parlare di stragi di animali persino le signore si interessavano ai racconti sanguilari e spesso inverosimili chi raccontava d'anche una rappresentazione mimica degli attacchi e delle lotte contro gli animali agitava le braccia e faceva rimbombare la voce il signor d'harville parlava con proprietà persino con qualche tono poetico anche se un po' retorico ma pieno d'effetto chissà quante volte aveva ripetuto la narrazione della storia perché la esponeva con fluidità senza esitare su parole scelte abilmente per suggerire vive immagini signori io non sono mai andato a caccia mio padre nemmeno e neanche il nonno e il bisnonno questi era il figlio di un uomo che era stato un cacciatore più accanito di tutti voi morì nel 1764 e vi dirò in che modo si chiamava jean era sposato e padre d'un ragazzo che è stato il mio trisavolo abitava insieme al fratello minore françois un nostro castello in lorena in mezzo a una foresta françois d'harville non s'era sposato per la passione della caccia dal primo all'ultimo giorno dell'anno i due fratelli andavano a caccia senza tregua e senza stancarsene mai amavano soltanto la caccia non comprendevano che la caccia non parlavano d'altro e vivevano solo per essa nei loro animi c'era solo questa passione terribile inesorabile li bruciava li dominava totalmente non lasciando posto per altro avevano proibito a chiunque di disturbarli quando era una caccia qualche ne fosse il motivo il mio trisavolo era nato mentre il suo padre cacciava la volpe jean d'harville non interruppe la rincorsa ma imprecò accidenti accidenti quel cretino avrebbe potuto aspettare l'allalì suo fratello françois si mostrava ancor più appassionato di lui all'alba andava a vedere i cani passava poi ai cavalli quindi sparava qualche colpo ai volatili nei dintorni del castello sino al momento di andare a inseguire qualche animale di grossa taglia in paese li chiamavano il signor marchese il signor cadetto poiché per la nobiltà d'una volta non si faceva questione come per i nobili di recente nomina per i quali oggi se soliti stabilire una gerarchia verso il basso infatti il figlio di un marchese non è più conte né quello di un visconte barone né il figlio di un generale colonnello fin dalla nascita ma la meschina vanità del giorno d'oggi trova qualche vantaggio in questi compromessi torno ai miei antenati erano così dicono molto alti dossature enorme pelosissimi violenti e vigorosi il cadetto ancor più alto del maggiore aveva una voce tanto robusta che secondo una leggenda di cui era orgoglioso non c'era foglia nella foresta che non tremasse se si metteva a gridare e quando tutti e due salivano a cavallo per andare a caccia vedere questi due giganti inforcare gli arcioni sui loro puro sangue doveva essere uno spettacolo superbo ora verso la metà dell'inverno del 1764 il freddo fu talmente eccezionale che i lupi divennero feroci attaccavano i contadini isolati la notte giravano attorno ai casolari urlavano dal tramonto all'alba e massacravano tutte le bestie nelle stalle ben presto si sparse la voce d'un lupo colossale dal pelame grigio chiaro quasi bianco che aveva divorato due piccini azzannato il braccio a una donna sgozzato tutti i cani da guardia del villaggio e che si infilava senza paura sotto i recinti per venire a fiutare presso le porte tutti i contadini dicevano di aver sentito il suo soffio potente che faceva tremolare la luce delle candele l'intera provincia ne era terrorizzata appena faceva notte nessuno aveva più il coraggio di uscire di casa le tenebre sembravano essere la magica dimora dell'animale i fratelli d'arville decisero di stanarlo e di ucciderlo invitarono a questa caccia tutti i nobili della zona inutilmente per quanto si battessero i boschi si frugasse ogni macchia non lo si incontrò mai furono uccisi dei lupi ma non quello e tutte le notti che seguivano quelle battute come se avesse voluto vendicarsi l'animale attaccava qualche viandante o faceva strage di bestiame sempre in posti lontani da dove lo avevano cercato una notte riuscì a penetrare nel porcile del castello d'arville e divorò i due esemplari più pregiati incolleriti i due fratelli considerarono il fatto come una sfida del mostro come un'offesa diretta a loro presero tutti i segugi più robusti e abituati alla caccia grossa e si misero a caccia con l'animo pieno di furore dall'alba al momento in cui il sole imporporato si cela dietro ai grandi alberi spogli batterono la foresta là dove era più fitta senza trovarlo alla fine tutti e due furiosi e depressi stavano tornando al passo dei cavalli percorrendo un viale bordato da alti cespugli e si stupivano d'essere stati depistati da quel lupo presi all'improvviso da un timore immotivato il maggiore affermava non è una bestia come le altre si direbbe che è capace di pensare come un uomo gli rispose il cadetto forse dovremmo far benedire un proiettile dal vescovo nostro cugino oppure pregare qualche prete di dire le parole opportune poi tacquero jean riprese guarda come rosso il sole questa notte il grande lupo procurerà qualche disgrazia non aveva finito di parlare quando il cavallo gli si impennò mentre quello di francois prese a scalciare una siepe coperta di foglie secche si abbatté davanti a loro e apparve una colossale bestia grigia che si inoltrò subito nel bosco i due fratelli lanciarono un rauco grido di gioia e curvandosi sull'incollatura dei loro forti cavalli si buttarono in avanti e spinsero con tutto il peso dei loro corpi si lanciarono a una tale andatura incitandoli spronandoli in un delirio di gesti di richiami di pungolamenti talmente sfrenato che quei robusti cavalieri sembravano sostenere i pesanti animali tra le cosce e sollevarli come se stessero per volare correvano così ventre a terra distruggendo gli arbusti scavalcando i fossati superando i pendii calandosi nelle forre suonando il corno a pieni polmoni per attirare i servi ai cani ed ecco che in questa cavalcata per di fiato il mio antenato andò a battere con la fronte contro un ramo enorme che gli spaccò il cranio e cadde a terra morto sul colpo mentre il cavallo imbizzarrito s'era adombrato ed era sparito nel buio della foresta il minore dei d'arville si fermò di colpo saltò a terra prese il fratello tra le brazza e si rese conto che dalla ferita fuoriusciva della materia cerebrale mista a sangue si sedette allora accanto a quel corpo poggiò sui suoi ginocchi quel capo sfigurato e vermiglio e aspettò contemplando il volto immobile del fratello maggiore a poco a poco fu preda della paura una paura strana che non aveva ancora mai provato paura del buio della solitudine della foresta deserta e anche di quel lupo stregato che era stato la causa della morte del fratello per vendicarsi di loro le tenebre infittivano il freddo acuto faceva scricchiolare gli alberi rabbrivedendo francois si rialzò incapace di rimanere più a lungo in quel luogo rendendosi conto che stava per venir meno non suddiva più niente né guaiti di cani né suoni di corno tutto era silente fino all'invisibile orizzonte e questo silenzio tetro della gelida sera aveva qualcosa di spaventevole ed innaturale prese tra le sue mani da gigante il corpo di jean lo sollevò e lo sistemò di traverso sulla sella per poterlo riportare al castello poi riprese lentamente il cammino con l'animo sconvolto come se fosse ebro incalzato da immagini orrende e sorprendenti all'improvviso sul sentiero invaso dal buio notturno passò un corpo gigantesco era il lupo un fremito di spavento scosse il cacciatore qualcosa di freddo come una goccia d'acqua gli scivolò sulla schiena e come un monaco tentato dal demonio e gli fece un gran segno di croce perdendosi d'animo per l'inatteso ritorno della belva raminga ma gli occhi gli si posarono sul corpo inerte steso davanti a lui e subito con un brusco passaggio dal timore all'ira fu scosso da un fremito di incontenibile rabbia così pungolò il cavallo e si slanciò dietro il lupo lo seguì nel bosco ceduo nei torrenti nelle foreste più fitte traversando zone che non riconosceva più con l'occhio fisso sulla macchia bianca che stava fuggendo nella notte scesa sulla terra anche il suo cavallo sembrava animato da una forza e da un ardore nuovi andava al galoppo col collo teso in linea retta davanti a sé urtando alberi e rocce mentre la testa e i piedi del morto penzolavano dalla sella i rovi s'aggrovigliavano alla criniera il muso sfiorava enormi tronchi macchiandoli di sangue gli speroni strappavano l'embidi scorza dagli alberi improvviso cavallo e cavaliere uscirono dalla foresta e piombarono in un vallone mentre la luna faceva la sua apparizione da sopra i monti era un vallone pietroso chiuso da enormi rocce senza uscite possibili e allora il lupo ridotto alle strette tornò indietro françois lanciò allora un grido di gioia che l'eco ripetè simile al rombo del tuono e saltò giù da cavallo col pugnale in mano l'ispida bestia dalla schiena rotonda lo stava aspettando gli occhi luccicavano come stelle ma prima di iniziare la lotta il cacciatore dopo aver abbrancato il fratello lo pose su una roccia e sostenendole la testa ridotta a un ammasso sanguinolento con qualche sasso gli gridò nelle orecchie come se avesse parlato a un sordo guarda adesso poi si buttò addosso al mostro si sentiva capace di buttar giù una montagna di spezzare una pietra con le mani la bestia tentò di azzannarlo cercando di sfondargli il ventre ma già egli l'aveva afferrata il collo e la strangolava lentamente soffermandosi ad ascoltarne gli aneliti e i battiti del cuore e rideva con una gioia atroce mentre aumentava gradatamente la sua formidabile presa e gridava come in delirio guarda jean guarda ogni resistenza cessò il corpo del lupo s'afflosciò era morto allora françois lo sollevò con le braccia e lo venne a gettare ai piedi del fratello ripetendo con voce piena di tristezza guarda jean eccolo qui rimise poi sulla sella i cadaveri l'uno sull'altro e tornò indietro rientrò nel castello ridendo e piangendo contemporaneamente come gargantua alla nascita di pantagruel lanciava urla trionfali con l'impazienza di chi è molto allegro quando raccontava l'uccisione del lupo e gemeva e si strappava la barba quando riferiva la morte del fratello anni dopo parlando ancora di quella sera diceva con le lacrime agli occhi se soltanto quel povero jean avesse potuto vedere come l'ho strangolato sarebbe morto felice ne sono certo la vedova del mio antenato ispirò al figlio rimasto orfano quell'orrore per la caccia che si è trasmesso sino a me il marchese d'arville tacque qualcuno domandò questa storia è una leggenda non è vero e il narratore rispose vi giuro che è vera totalmente allora una donna dichiarò con un fil di voce lieve non ha importanza è bello avere passioni così forti grazie